Cogesa entra nelle scuole e nelle parrocchie per la campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata che dal 1 gennaio 2018 sarà estesa all'intera città di Sulmona. Dopo gli incontri nelle frazioni nei mesi scorsi si è deciso di proseguire con le riunioni per rendere passaggio al nuovo sistema di rifiuti meno traumatico possibile, soprattutto per gli anziani. Si è partiti dalla zona pepe con un incontro che si è svolto ieri nei locali parrocchiali della chiesta di Santa Maria Ossiliatrice con il coinvolgimento di comitati residenti a cui hanno partecipato moltissime persone. Il 23 novembre alle 18 e 30 nei locali della chiesa San Giovanni la Capestrano si darà una nuova riunione rivolta soprattutto ai residenti delle frazioni Arabona, Torrone e zona Valle Corvo. Sono ancora da fissare le date per gli altri incontri che si daranno sempre nelle frazioni alla presenza del consigliere comunale Andrea Ramunno di concerto con i dipendenti del Cogesa. Nel frattempo prosegue la consegna dei mastelli all'ecosportello di via Cicerone. In una decina di giorni sono state servite circa 2.900 utenze su un totale di 8.900. Abbiamo scommesso su bambini e studenti perché sono loro che riportano il messaggio nelle famiglie, perché rappresentano il nostro futuro, interviene l'amministratore unico Vincenzo Margiotta. Abbiamo comunque riscontrato una grande partecipazione sulla questione ambientale da parte degli alunni e questo ci spinge a continuare. Con l'estensione della raccolta porta a porta si completa un progetto importante per la città atteso da molto tempo, afferma il sindaco di Sulmona Maria Casini. Apprezziamo l'accurato lavoro che sta portando avanti il Cogesa per garantire un servizio efficiente al cittadino e una partenza a gennaio prossimo che sono certa sarà grandiosa. L'assessore Alessandra Vella ricorda l'importanza dell'autocompostaggio. Con il regolamento comunale per la promozione e l'attuazione dell'autocompostaggio della frazione verde organica dei rifiuti, deliberato in giunta nei giorni scorsi e che attende l'approvazione nella prossima seduta del consiglio comunale, si aggiunge un altro importante tassello unitamente all'estensione della raccolta domiciliare all'intero territorio comunale, contribuirà a rendere la nostra città più pulita e vivibile, conclude l'assessore.